buon pomeriggio e bentrovati a tutti voi benvenuti a questa nona edizione del convegno a fiesca informazione 2021 naturalmente dopo il successo dello scorso anno anche per questa edizione per quest'anno la compagnia ha scelto i microfoni di le fonti tv gli studi di le fonti tv per comunicare ciò che è accaduto nell'anno appena trascorso e soprattutto per parlare di quello che deve ancora arrivare ed ecco me in studio il direttore di a fiesca italia per francesco basilico che ritrovo con molto piacere per francesco ciao grazie ci diamo del tuo ovviamente perché è un appuntamento rinnovato anche sulle fonti tv dicevo dopo l'anno scorso che ha visto effettivamente comunicare dei dati importanti e che riprendiamo anche in questa edizione naturalmente questa chiacchierata servirà come ho già anticipato per parlare di un anno che è stato ancora particolare usiamo questa parola che però ha visto una ripartenza e quindi questa ripartenza ci deve proiettare inevitabilmente verso il futuro allora partiamo proprio dal principio come detto quest'anno è stato caratterizzato da una ripresa in generale delle attività della vita della normalità anche se poi il concetto di normalità è cambiato si può dire che sia stata una ripartenza anche per a fiesca allora intanto buongiorno a tutti grazie di essere qui presenti con noi alla nostra convention sì una ripartenza forte decisamente forte rispetto a un certo diminuzione delle performance nel 2020 anno forte della 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 pandemia una ripresa quindi forte ma non soltanto ripresa in termini di volumi ma anche una grande attività per quanto riguarda tutto un percorso di innovazione è innegabile che la pandemia abbia continuato a proiettare i suoi effetti anche nel 2021 lo stia ancora facendo purtroppo però bisogna saper cogliere le opportunità anche nei momenti difficili e quindi nei momenti difficili cogliere le opportunità significa avere la capacità di diversificare di investire in quei settori che ti possono permettere di essere sempre a contatto con il tuo pubblico con i tuoi intermediari con i tuoi collaboratori anche in condizioni dove questa normalità di prima è un pochettino più diluita il motivo invece per cui abbiamo scelto anche quest'anno di dedicarci a una edizione digitale è dato dal fatto che gioco forza l'anno scorso quest'anno invece più una scelta deliberata nel senso che l'anno scorso con un'edizione totalmente digitale abbiamo raggiunto un numero molto maggiore dei nostri collaboratori e di conseguenza un grande successo anche di diffusione del di tutti gli argomenti che volevamo toccare ed è per questo che quest'anno abbiamo scelto di ripetere in questo modo beh a noi ovviamente fa piacere perché diventiamo in qualche modo protagonisti insieme assolutamente sì di questo bilancio e poi comunque bisogna dirlo visto che hai parlato di sfide opportunità insomma si arriva anche a più occhi a più orecchie molte più persone possono ascoltarci e possono sentire quello che abbiamo da raccontare è proprio a proposito di questo mentre gli incontri in presenza erano fermi no durante questo anno come siete riusciti voi a mantenere rapporti strategici con i vostri partner perché quella poi è una delle sfide che tutti noi abbiamo dovuto affrontare certo io qui risponderei fermi ma non completamente perché è vero che nel 2021 è continuata e sta continuando l'abitudine di privilegiare i contatti a distanza abbiamo tantissimi strumenti per gestire le relazioni a distanza quindi riunioni videoconferenze e cose di questo genere sicuramente hanno aiutato tantissimo però appena abbiamo avuto la possibilità abbiamo ripreso i contatti di persona questo si è svolto sia per quanto riguarda a fiesca competition che è il nostro momento diciamo di premiazione di un percorso produttivo di alcuni partner tra l'altro quest'anno a fiesca competition ha portato i vincitori a svolgere una vera regata in mare con due barche a vela per cui qualcosa di veramente anche molto emozionante non solo per il fatto di essere ritornati di persona ma anche per il l'evento in sé stesso una regata impegnativa quindi molto divertente molto impegnativo molto molto ottimistico per il futuro anche il simbolo di mettersi alla prova anche il simbolo di mettersi alla prova e soprattutto direi che ha dato un po il segno del cambiamento delle abitudini della pandemia certo ecco diciamo che si è capito magari qual è la nuova normalità no in qualche modo ci siamo messi di fronte a questo a questo aspetto altro altro punto che mi piacerebbe toccare conti in apertura di questo pomeriggio a parlare della responsabilità sociale d'impresa che è un elemento imprescindibile per differenziarsi sul mercato questo è assolutamente inevitabile quali tipi di progetti avete in questo momento e quali state portando avanti beh allora a fiesca è un'entità ma ovviamente piccola quindi non abbiamo i problemi delle big company che devono gestire l'impatto ambientale per centinaia se non addirittura migliaia di dipendenti quindi da noi tra virgolette è più facile però è sempre stato un punto fisso della nostra politica aziendale quello per esempio di ridurre il più possibile le emissioni a tutto tondo abbiamo eliminato la plastica bicchierini del caffè i bicchieri dell'acqua eccetera eliminati completamente raccolta differenziata sembra una banalità ma in un grosso ufficio non è facile eliminata la carta appena possibile quindi grande digitalizzazione di tutti gli strumenti e tutti i documenti e poi abbiamo incominciato con delle attività rivolte al sociale a dicembre dell'anno scorso abbiamo sostenuto una campagna di medici senza frontiere rivolte a rivolta al personale impegnato nella lotta alla pandemia quest'anno abbiamo lanciato una campagna che si chiama tridon questa campagna prevede che per sottolineare le sinergie su questo argomento a tutte le persone che hanno sottoscritto una polizza vita quindi una polizza tutela della famiglia dei propri familiari viene associato un albero viene piantato un albero e viene inviato una comunicazione al cliente con un link dove lui può vedere tutta la vita dell'albero la crescita del suo albero che sostanzialmente corrisponde anche alla crescita del dei suoi figli quindi la tutela va di pari passo la tutela di figli e la tutela dell'ambiente quindi l'abbattimento delle emissioni di co2 quindi progetto su cui puntiamo moltissimo e abbiamo già i primi alberi piantati che stanno crescendo e si può già in qualche modo misurare l'emissione l'abbattimento delle emissioni di co2 quindi questo ci dà grande soddisfazione per quanto riguarda la fine d'anno quindi il natale che corrisponde alla campagna medici senza frontiere dell'anno scorso stiamo studiando qualche cosa di simile e che lanceremo poi nei prossimi settimane direi a questo punto insomma il concetto di responsabilità appunto come diciamo sociale di impresa ma responsabilità anche personale insomma è un concetto molto ampio questo soprattutto con questa iniziativa di cui che ci stavi raccontando che anche di buono ospicio no perché si vede la crescita e quindi si ripercorsi si vedono subito i risultati non subito però gradualmente certo insomma ciò che ci fa mantenere costanza nelle cose quindi quando parliamo di lavoro di business è fondamentale allora parliamo di numeri che sicuramente sono cari a voi ma sono cari anche al pubblico che ci segue no perché poi carta canta bisogna basarsi su quelli sui famosi bilanci ti faccio una domanda molto diretta vi ritenete soddisfatti dei risultati ottenuti assolutamente sì all'inizio di quest'anno credo che sia stato un fenomeno abbastanza diffuso i primi due mesi tre mesi sono stati dei mesi dove non si riusciva a capire quale sarebbe stata la tendenza dell'anno e quindi se ci sarebbe stato un recupero di produzione una crescita e cose di questo genere e poi è partito il mercato è partito per cui noi quest'anno chiuderemo l'anno con una raccolta globale superiore addirittura a quella del 2019 per cui recuperiamo completamente il gap del 2020 chiudiamo con una crescita che supera quello che era stato l'anno 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 record per noi dobbiamo dimenticare che questa è la non edizione della convention e l'anno prossimo noi festeggiamo i dieci anni di presenza sul mercato per cui se il 2019 è stato l'anno record c'è una giustificazione per questo e noi lo supereremo quest'anno quindi ottimo risultato da questo punto di vista ma poi anche altri risultati estremamente positivi quest'anno è stato l'anno dell'insurtech fuori discussione sulla scorta del dei blocchi dei limiti delle delle difficoltà generata dalla pandemia abbiamo ritenuto di dover dare una grossa spinta a tutto lo sviluppo del digitale quindi piattaforme dedicate al cliente finale che può in autonomia sottoscrivere una polizza direttamente sul nostro sito diverse tipologie di polizza e sulla scorta di queste prime esperienze di piattaforme sul nostro sito una grande attività di coinvolgimento di partnership con quelli che possiamo definire dei broker quindi degli intermediari nativamente digitali o che hanno fatto dei grossi investimenti nel digitale che possono corrispondere alla nostra visione dell'approccio digitale mercato del digitale mercato ancora molto indietro in italia fuori discussione si vende tantissime rc auto online però il resto chiaramente deve ancora maturare però il fenomeno a cui abbiamo assistito è un fenomeno di grande partecipazione e sulla scorta di questa grande partecipazione quello che noi abbiamo messo in campo in questo settore è stato diciamo perfettamente apprezzato e sposato da alcuni dei principali operatori di questo mercato guarda mi sono segnato dei nomi 99 bros insurance arena crea assicurazioni covers in axieme upgrade mio assicuratore sono soltanto alcuni dei partner con cui degli operatori di questo mercato che hanno fatto dei grossi investimenti nell'insurtech e con cui abbiamo stretto delle collaborazioni vediamo le premesse ci sono come l'albero no che assolutamente deve crescere però intanto tutti questi alberi ci sono tutti questi alberi ci sono bisogna mettere le radici e poi naturalmente gli effetti si vedono col tempo anche perché se si ottengono subito magari dei risultati poi non si consolidano il consolidamento è la cosa fondamentale assolutamente d'accordo allora abbiamo un po' ripercorso il vicino passato mi piace sentire che insomma siamo tornati un po come si suol dire ai livelli pre covid no pre crisi però questo è un bel punto di partenza proiettiamoci nel futuro che cosa insomma quali novità cominciamo anticipare qualcosa quali novità riservate allora il futuro è già qua eh sì il futuro è oggi esatto il futuro è già qua quindi eh senza inventarsi nulla le scelte che sono state fatte nel 2021 sono delle scelte che sono o eh progetto o premessa per lo sviluppo del 2022 e degli anni a seguire a Fiesca in Italia è una è una compagna di assicurazioni che sostanzialmente viaggia eh su due eh mercati ben distinti il mercato delle polizze individuali eh distribuite eh tramite InsureTech quindi online o direttamente dai nostri intermediari direttamente al cliente finale e il mercato delle polizze collettive eh più o meno abbinate a dei finanziamenti quindi la messa in copertura di grandi gruppi di 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 assicurati questi resteranno i nostri due canali principali i nostri due asset portanti eh per lo sviluppo del futuro eh con una particolare attenzione direi alla continua ricerca sia di servizi sia di modalità distributive sia di innovazioni di prodotto per ottenere una sempre migliore sinergia con i nostri distributori e una perfetta soddisfazione del cliente finale certo eh beh insomma ma sinergia siamo in un mercato di nicchia per cui eh cerchiamo di far di rendere questa nicchia sempre più eccellente collaborare continuamente assolutamente per andare oltre poi forse questo è uno degli insegnamenti che ci ha lasciato il periodo insomma dovrebbe essere un insegnamento già acquisito ma insomma però si dice che quando ci siano i periodi emergenziali si accelerino tanti processi forse anche questo si è accelerato quindi mi piace lo slogan non lo faccio diventare io slogan il futuro non è domani ma è oggi perché è vero non si può perdere tempo soprattutto visto che una delle altre parole chiave che hai messo sul tavolo in apertura di questi lavori è innovazione tecnologia nuove tecnologie quindi sappiamo molto bene quanto sia un mondo che si evolve continuamente quello che stiamo dicendo in questo momento tra neanche domani un istante vecchio insomma per questo pomeriggio cerchiamo di restare sui concetti che sono importanti in questo momento e visto che una del un'altra parola chiave tu ormai mi conosci un po' mi piace procedere per parole perché se arriva subito alle questioni è formazione certo direi di noi ci vediamo più tardi naturalmente noi ci vediamo più tardi entriamo nel vivo dei lavori e diamo la parola a Gianpaolo Rossi formatore esperto di comunicazione così diamo proprio lo sprint giusto iniziale d'accordo? e che i lavori abbiano inizio va bene allora ci vediamo tra poco Gianpaolo Rossi e a tra poco grazie a tutti